Fabio Cocco, capitano della Nurese nella scorsa stagione, è un campionato che voi avete vinto a Sondi Record. Adesso si rinizia con una nuova avventura. La settimana scorsa è stato presentato il nuovo allenatore, Bernardo Mereu, con cui avete avuto un primo contatto sul campo del Frogheri. Sì, è stato un incontro giusto per conoscerci, per capire il pensiero che aveva sulla prossima stagione. È stato un incontro che comunque è stato importante perché abbiamo capito un po' le sue idee, è entrato negli spogliatoi, ci ha detto due parole e ci ha fatto capire subito che tipo di persona è. E poi è servito soprattutto per vedere dei nuovi giovani che comunque in questi campionati fanno la differenza. È rimasto un nucleo storico, siete stati confermati tanti dei titolari della scorsa stagione, molti giovani, presto se ne aggiungeranno altri. L'obiettivo è quello di fare un campionato importante e provare se ci si riesce a fare il salto di categoria. Sì, ma penso che sia l'obiettivo giusto per la situazione che c'è a Nuoro. È stato un piacere sapere che la società ha riconfermato molti nuoresi, perché comunque anche il discorso di nuoresità è importante. L'annata scorsa è stata un'annata importante che ci ha permesso soprattutto di metterci in mostra, perché magari tanti miei compagni e anch'io non eravamo riusciti a lasciare un'impronta con la Nuorese. È stato importante infatti vincere il campionato da protagonisti. Si inizia il 18 agosto, il gruppo verrà formato in queste settimane. Vi attende un campionato difficile con tante nobili decadute? Sì, rispetto a qualche anno fa secondo me il livello è leggermente inferiore, perché avendo due fuori quota in più, con tutto che i giovani possano essere bravi, però comunque si sentirà sicuramente un calo di livello. Però comunque ci sono tante buone squadre, c'erano anche dei derby storici che la Nuorese ha affrontato in Serie C, quindi penso che comunque sarà un campionato importante, un bel campionato. I propositi di Fabio Cocco? Io spero di ripetere almeno quello che è stato fatto l'anno scorso, perlomeno di continuare quello che è stato fatto l'anno scorso, perché comunque per me è stata un'annata straordinaria, infatti colgo l'occasione per ringraziare il mister che mi ha dato questa opportunità. Speriamo che tutto questo continui, anche perché farlo a Nuoro sicuramente è qualcosa di importante.